Nuovo video di Geometry Dash, oggi scusate se ieri non l'ho recato però avevo da fare quindi raga scusate però oggi giochiamo a Geometry Dash Ok, si inizia il primo è a 63% perché non... cioè si è iniziato a giocare da poco quindi scusate se stare un po' zitto però sono un po' concentrato Ok, dai raga, siamo quasi alla metà Ok, superata questa parte adesso dobbiamo fare qua Qua, qua Qua sono morto l'altra volta i 3 Ce l'ho fatta Raga, ce l'ho quasi per fare Mamma mia che ansia, che ansia raga Ce l'ho fatta Sì raga Ce l'ho fatta Let's go Let's go E andiamo Questo dobbiamo come le pubblicità Sì raga, scusate però No, 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 no Leva, leva, leva Le pubblicità Facciamo un secondo, via Ok, ok, ci siamo No, mi ha riscordato Ok, ok Ok Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum Aaaaaaah Tum, 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 tum Tum, tum Tum, tum Raga, comunque vi farò una storia qui su Youtube E vi farò vedere il mio nuovo tappetino che non ho unboxato Però vi unboxerò comunque la tastiera Non vi preoccupate, state tranquilli Tranquillissimi, dovete stare Che in questo periodo Mi diverto un po' su Youtube Così diciamo Visto che Sì sono impegnato comunque con la scuola Le video lezioni Vabbè Ma penso come un po' tutti i piccoli E ragazzi No raga Vabbè raga Provo l'ultima volta E poi questo video può finire qui Perché devo andare a reccare altre volte Vabbè raga Ci fermiamo così Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Campanellina E noi Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao